Radio Radicale, siamo con Patti Labbate del Movimento 5 Stelle per parlare della polemica sul liceo del Made in Italy. Allora, insomma, il Consiglio di Stato ci vuole vedere chiaro. Le volevo chiedere qual è la sua valutazione su questo corso di studio che ha aperto una fronte di polemica che ha fatto molto discutere le opposizioni. Certo, io ricordo quando è arrivato in aula e quindi noi abbiamo provato a demandarlo perché c'erano delle cose che non funzionavano. Anche guardando le stesse materie all'interno, sono materie che non danno, come dire, uno sbocco veramente innovativo. Quando il governo parla di Made in Italy, lì bisognava inserire materie tipo cicli di produzione oppure, non so, merceologia o altre materie un pochino più particolari, valutazione degli impatti ambientali della produzione, una serie di altre cose anche per valutare, non so, la circolarità sull'economia circolare. Non c'era nulla delle materie assolutamente inutili. Allora noi non riusciamo a capire. Prima di tutto lo sbocco di chi poi frequenterà questo liceo serviranno a chi? A quali imprese? Se le imprese si sa che hanno necessità di avere delle figure, che abbiano delle competenze specifiche anche sull'IA, ma anche appunto sull'economia circolare. Non c'era nulla. Poi anche sui costi, a quanto pare, ci sono dei problemi. Quindi bisogna vedere, è chiaro. Hanno fatto l'ennesima, come dire, cosa? Uno slogan. Facciamo questo liceo del Made in Italy che in realtà è uno slogan perché all'interno è completamente vuoto. Senta, se ci fosse stata maggiore chiarezza sulle materie sarebbe stato più accettabile? E poi negli altri corsi di studio che cosa c'è che manca che avrebbe potuto offrire il liceo del Made in Italy? I corsi di studio attuali dei licei sono, come dire, un po' classici, no? E quindi veramente di innovativo. Devi inserire delle materie che facciano sì, come dire, che ci possano essere delle figure formate su quelle che sono le esigenze attuali. Le esigenze attuali sono quelle, stiamo parlando di un liceo, se parliamo della parte tecnica, che riguardano la transizione ecologica. Quindi significa figure che sappiano e abbiano i rudimenti, le, come dire, le basi per diventare dei manager sul green, ma quindi non solo sulla parte, diciamo, di sostenibilità ambientale, ma anche sull'innovazione tecnologica, su quella che è, come dire, l'innovazione appunto nel sistema informatici. Cosa c'è di innovativo sull'economia circolare? Fare una contabilità ambientale, i nuovi indicatori, la carbon footprint, io le parlo molto tecnicamente, ma proprio appunto come docente ho visto questa cosa inutile, del tutto inutile. Poi se inoltre non c'è chiarezza anche su altre cose, che io non ho approfondito il discorso dei costi, però ci rendiamo conto che, come dire, abbiamo fatto perdere ai parlamentari ore e ore per lavorare su un sistema che doveva portare qualcosa di miglioramento per la società, quindi portare un qualcosa in più per i nostri giovani, per formarli, per poter approcciare un domani un lavoro, un lavoro innovativo green, ma in realtà questo governo ha creato l'ennesima cosa, che non serve a nulla. Ho capito. Pensa che ci sarà possibilità per recuperare, oppure con una nuova, cioè emendando la legge che... Ma cosa dobbiamo farlo? Dobbiamo riaprire, rivedere, vediamo che cosa accade, perché così non serve veramente niente, infatti se ne sono accorti che non sappiamo cosa serve veramente, forse sono anche solo costi aggiunti per la pubblica amministrazione, costi che poi non portano un risultato. Bene, la ringrazio. Grazie all'onorevole Patti Labate del Movimento 5 Stelle.